salve a tutti benvenuti bentornati come sempre vi invito a lasciare un like condividere e commentare un piccolo update un aggiornamento sul caso della buona mobile oramai è diventata una telenovela che però è un po a senso unico perché ci sono cose che sono state dette cose che non sono state dette comunicati ma in data 8 di giugno 2023 dopo più di un mese di ufficiale assenza la buona mobile sulla propria pagina facebook aveva risposto a qualche utente ma in data 8 di giugno 2023 esce un nuovo post quello precedente primo di maggio festa del lavoro nel quale mette alcuni punti in chiaro e fa delle accuse precise nei confronti di vodafone delle inadempienze contrattuali ovviamente qua non abbiamo la replica di vodafone ma abbiamo un lungo comunicato di abona mobile che vi faccio sentire elaborata tramite un sintetizzatore se volete invece leggerla potete andare sulla pagina facebook di rabbona mobile e leggere il comunicato tutto questo per quale motivo perché vodafone tramite printrond all'aggregatore ha staccato anche la voce agli utenti quindi praticamente non c'è più servizio di voce da tsms il buio il blackout quindi adesso e cosa ci sarà la prossima puntata della telenovela la vedremo buon ascolto del comunicato di da buona mobile in mezzo gentili clienti spettabili associazioni dei consumatori mai avremmo voluto vivere il dramma di questo comunicato e tantomeno farvi patire i disagi degli ultimi due mesi nei quali soffrendo e lottando abbiamo continuato a batterci anche per voi subendo ogni forma di ingiustizia e di legge lo abbiamo fatto in silenzio non per mancanza di rispetto nei vostri confronti ma per l'enorme fiducia che avevamo e continuiamo ad avere nelle istituzioni a denti stretti abbiamo rispettato la consegna del silenzio anche di fronte a una trasmissione televisiva che ci ha dipinto come omertosi oggi purtroppo siamo costretti a prendere atto che affidarsi esclusivamente alle istituzioni e confidare nella buona fede delle controparti in una trattativa in cui la posta viene alzata minuto dopo minuto non paga per questo siamo qui per raccontare e dimostrare a chiunque abbia voglia di ascoltarci la verità siamo colpevoli di essere una piccola azienda che è cresciuta senza patrocinio formata da persone che pretendono di difendere i propri diritti e quelli dei loro clienti purtroppo non tutti tollerano questo modo di operare quando abbiamo rivendicato l'adempimento di un contratto in esecuzione del quale avevamo già pagato 18 milioni di euro condizioni tecniche migliori per i nostri clienti e rispetto delle norme regolamentari vodafone ha minacciato come è solita fare il distacco avendo informato l'autorità dell'indebita pressione ci siamo illusi che vodafone il suo braccio operativo l'aggregatore plintron rispettassero le direttive impartite o che comunque la gcom vigilasse sul loro rispetto quando però plintron ha cominciato a mettere in atto il cronoprogramma di distacco unilaterale voluto da vodafone mentre questa si adoperava nel trattare le nostre rinunce abbiamo appreso che qualcuno all'interno dell'autorità ha avuto informale interazioni con l'aggregatore che forte del sostegno che afferma di aver ricevuto ieri ha spento anche la voce dei nostri clienti e tanto nonostante avessimo anche offerto un milione e 500 mila euro solo per consentire un'uscita ordinata nel rispetto dei diritti acquisiti dai nostri clienti naturalmente quanto esposto è oggetto di giudizi intrapresi innanzi all'autorità giudiziaria tuttavia riteniamo doveroso rompere il muro del silenzio e perciò invitiamo tutti gli utenti e le associazioni dei consumatori che si sono interessate della vicenda a contattare la nostra società per confrontarci e eventualmente sin da lunedì visionare la documentazione ostensibile che dimostra che ciò diciamo è la pura verità promettiamo che continueremo a batterci sempre per i nostri clienti i nostri dealers la nostra reputazione ringraziamo tutti coloro che ci hanno onorati avendoci scelto vi aspettiamo per la verità e e e e e e e